argento d'ario argento asia argendero luca cosa posso chiamare pinuccio come stai? eh? eh si certo che lo so che... pinuccio te l'ho già detto io sono di torino non posso votare la tua lista ti faccio l'endorsement ci significa l'endorfer l'endorsement l'endorsement devi impararle... pinuccio se ti candidi queste parole questi inglesismi li devi imparare? devi imparare prima queste parole? eh va bene impariamo ma qual'è il problema? endorsement si fa... è certo che la... si chiamo zia assunta zia concetta personalmente per convincerla a votare si e qualche altra persona non c'è? pinuccio ti ho detto che ma io faccio il tifo per te ma come no ma nessuno combatte per i diritti dei vivi almeno qualcuno che combatte per i diritti dei morti luca fa un po' cristo aiutami si pinuccio ok ciao 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 Grazie.